In questi cinque anni di amministrazione nella città di Napoli, di sindaco della città di Napoli, abbiamo provato a dimostrare che si possono costruire dal basso politiche alternative al liberismo. L'abbiamo fatto senza soldi perché io ho trovato un buco, una voragine, un dissesto, un miliardo e mezzo di debito, 850 milioni di disavanzo, società partecipate dei servizi pubblici sull'orlo del fallimento, creditori pagati a quattro anni, insomma una situazione veramente disastrata. Oltre a mettere a posto i conti, farli quadrare, abbiamo cercato di fare in modo che tutto questo non ricadesse sui diritti essenziali dei cittadini e non abbiamo smarrito la nostra visione di città. Allora faccio qualche esempio che credo possa essere utile a chi vuole costruire qualcosa che non abbia confini, come stiamo cercando di fare nella nostra città, senza confini. Altri innalzano mura, mettono filo spinato, respingono, praticano politiche di indifferenza. Nella nostra città si può dare rifugio, chiamiamolo così, politico, sociale, culturale, a chiunque voglia vivere in una comunità di convivenza in cui la differenza è una ricchezza e non un pericolo. Cominciamo con l'acqua pubblica, una battaglia di tanti ma attuata solamente nella nostra città. Politiche culturali orizzontali, dagli artisti di strada al recupero dei luoghi abbandonati, laddove degli spazi pubblici o anche privati abbandonati vengono manutenuti, vengono presi in cura da abitanti e cittadini nella nostra città, a Napoli non le chiamiamo occupazioni ma le chiamiamo processi di liberazione. Non abbiamo privatizzato il patrimonio pubblico, anzi lo stiamo valorizzando. Non abbiamo messo sul mercato il trasporto pubblico, non abbiamo messo sul mercato l'igiene urbana, quindi rifiuti, risolvendo l'emergenza rifiuti e rompendo il business tra mafia, affari e politica. Chiaramente Napoli non è che sia diventata il paradiso terrestre o il luogo dove tutto funziona, perché le ferite sono tanti, problemi ancora tantissimi, però è un luogo dove abbiamo voluto costruire dal basso politiche alternative al centralismo autoritario, ai commissariamenti, alle cricche, ai trasversalismi, alle politiche monetarie. Ci piace usare il termine profitto sociale e non più profitto monetario. Abbiamo cercato di costruire e dare un valore al bene comune, quindi andando fuori anche dalla dialettica pubblico-privato. Il bene comune non è né del privato né del pubblico, è di tutti. E quindi chiunque lavora per il bene comune, lavora per la nostra comunità e produce una economia alternativa alle politiche liberiste. Insomma, guardo con interesse, senza confini, quello che state facendo a Milano e dopo questa campagna elettorale entusiasmante che mi auguro ci porterà alla vittoria, io credo che da sud si può dare sicuramente una mano senza confini, anche per costruire una sinistra che sappia innovarsi da un lato e trovare le antiche tradizioni di quelle battaglie per la lotta alla disuguaglianza sociale ed economica che è ancora troppo forte nei nostri territori. Buon lavoro e tanti saluti dalla nostra Napoli.